Buonasera, oggi è l'ultimo dell'anno e davvero non poteva finire meglio quest'anno e cominciare quindi il prossimo a breve con una opzione di pace per la Siria dopo sei anni di guerra e centinaia di migliaia di morti, perché proprio poco fa il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha dato il suo imprimato, il suo avallo al piano di pace voluto dalla Turchia e dalla Russia e che di fatto ha portato alla tregua che sembra stia reggendo in queste ultime 48 ore nel paese, dunque possono cominciare in maniera forse più concreta, mai così concreta come fino a questo momento i colloqui di pace per mettere fine alla guerra in Siria speriamo davvero che questo sia un buon inizio, un nuovo inizio per il paese e per tutta la comunità internazionale ci occuperemo di questo naturalmente in apertura del telegiornale ma anche della questione migranti perché per la prima volta forse il governo Gentiloni ha dato una sterzata reale rispetto al percorso tracciato dal governo precedente, governo Renzi, lo ha fatto su un tema delicatissimo, appunto quello della migrazione con una circolare voluta dal ministro dell'interno Minniti e poi firmata dal capo della polizia Gabrielli sostanzialmente si vuole procedere in maniera più severa, più forte alle espulsioni dei migranti irregolari per fare in modo insomma che quelle espulsioni che fino adesso spesso purtroppo restavano soltanto sulla carta si tramutino davvero in espulsioni reali con dei rimpatri che debbano arrivare fino al paese di provenienza questo naturalmente anche per una questione di sicurezza legata alle tante paure del terrorismo vedremo tra poco quanto le città europee, non solo italiane, naturalmente tutte le capitali sono blindate per i festeggiamenti di questo fine 2016 e poi ancora ci occuperemo di terrorismo perché purtroppo la minaccia non si è conclusa in Iraq c'è stato un ennesimo attacco rivendicato dall'ISIS questa mattina a Baghdad che ha provocato la morte di 58 persone l'annuncio drammatico del Pentagono che il sedicente califo al Baghdadi sarebbe ancora in vita e poi naturalmente ci collegheremo come tradizione alla fine del telegiornale dunque restate fino alla fine con il Quirinale per sentire il discorso di Feneano del capo dello Stato Mattarella mai come quest'anno importante perché mai come quest'anno forse lo snodo vero politico delle decisioni dei prossimi mesi passa per il Quirinale e non per Palazzo Chigi allora vi aspetto tra 30 secondi per i titoli Il Giornale Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato all'unanimità la risoluzione all'iniziativa di Russia e Turchia per mettere fine alla guerra civile in Siria regge la tregua tra l'altro dopo sei anni e decine di migliaia di morti presso saranno dunque avviati nuovi, credibili, speriamo, negoziati di pace Il governo italiano annuncia la stretta sugli stranieri irregolari con una circolare alle questure il ministro dell'interno Minniti chiede di intensificare controlli ed espulsioni prevista la riapertura di nuovi centri di identificazione in ogni regione ma sono pesanti le reazioni dalle opposizioni il governo è ridicolo, dice Fratelli d'Italia non era tutto ok, attacca invece la Lega Le città sono blindate in tutta Europa per questo capodanno dopo l'attacco di Berlino e le minacce terroristiche massima allerta a Milano e Roma sorvegliati speciali Colosseo, Circo Massimo in campo ci sono blindati e tiratori scelti e dalla Germania la cancelliera Merkel avverte i nostri valori sono la controproposta al mondo pieno di odio e di terrorismo ma i nostri valori saranno più forti e per l'appunto il leader dell'ISIS Abu Bakr al-Baghdadi sarebbe ancora vivo a smentire le voci che lo davano per morto è arrivato il Pentagono secondo cui il califo appunto è vivo guida ancora l'ISIS che oggi è tornato a colpire almeno secondo quanto ha rivendicato in Iraq due kamikaze avrebbero provocato la morte di 28 persone oltre 50 feriti a Baghdad dopo le schermaglie con la Russia sulle ingerenze elettorali Barack Obama saluta gli americani nel discorso di commiato essere il vostro presidente è stato il maggior privilegio della mia vita ha detto mentre il suo successore Donald Trump ha fatto gli auguri di buon anno anche ai suoi molti nemici e a coloro che lo hanno combattuto ma hanno perso e poi c'è attesa per il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Mattarella un discorso breve, poco più di 15 minuti per ricordare l'annus horribilis che sta per concludersi tra terremoto e terrorismo lavoro e legge elettorale tra i temi e una strigliata alle forze politiche meno divisioni e più attenzione ai problemi reali del paese Buonasera, ben trovati dunque dopo sei anni, centinaia di migliaia di morte tentativi continui da parte della comunità internazionale e delle Nazioni Unite e trovare in qualche modo una soluzione per la questione siriana sembra essere arrivata a uno snodo fondamentale importante la vicenda in Siria perché il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite poco più di un'ora fa ha approvato l'iniziativa di pace voluta fortemente da Vladimir Putin e dalla Russia in accordo con la Turchia dalla quale è scaturita una tregua che sembra reggere almeno nelle ultime 48 ore è arrivato poco più di un'ora fa il sì del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla risoluzione per la Siria promossa da Russia e Turchia un'approvazione all'unanimità che serve a rinsaldare il cessato e il fuoco tra i ribelli e le aristi che a parte alcuni isolati atti di guerriglia soprattutto nella zona ovest di Aleppo sembra aver retto e programmare i colloqui di pace tra le parti di una guerra sanguinosa è infinita verso la fine del mese di gennaio nell'ultimo giorno da segretario di Ban Ki-moon che verrà sostituito dalla mezzanotte di oggi dal portoghese Antonio Guterres arriva quindi il voto positivo dell'ONU che conferma ancora una volta se fosse necessario il ruolo preponderante assunto da Putin in questa vicenda i prossimi passi prevedono ora incontri nella capitale del Kazakistan tra formazioni dei ribelli Assad per la fine del prossimo mese è un rapido, sicuro e senza ostacoli accesso per fornire aiuti umanitari di cui la Siria ha davvero bisogno dopo anni di conflitti in tutto il paese dai colloqui sarebbero ovviamente esclusi sia l'Isis che Fateh Al-Sham gli ex caedisti di Al-Nusra il consiglio di sicurezza ha dato quindi il via libera alla risoluzione russo-turca dopo aver ascoltato anche il parere positivo del mediatore dell'ONU Staffan de Mistura che si era detto fiducioso che questa volta la tregua potesse reggere e ha già fissato un colloquio tra Assad e i ribelli per il prossimo 8 febbraio a Ginevra un vertice che a questo punto potrebbe cambiare data l'ottimismo però si scontra con l'instabilità di un paese travolto da un conflitto che ha provocato solo nel 2016 oltre 60.000 morti tra cui almeno 13.000 civili l'esercito Siriano Libero è infatti minacciato via Twitter di essere pronto a riprendere i combattimenti se non si fermeranno immediatamente gli attacchi dei lalisti legati a Bashar al-Assad nella zona intorno a Wadi Barada 15 km a nord-ovest di Aleppo Evidente che questa tregua è stata raggiunta nei termini e l'imprimato dell'ONU va in questa direzione nei termini voluti da Mosca cioè con la permanenza di Bashar al-Assad al potere un accordo raggiunto grazie alla mano libera che è stata data la Turchia nella gestione della questione kurda e nel controllo di una zona appunto sulla quale la Turchia voleva mantenere in qualche modo appunto il controllo nel paese siriano in qualche modo legato alle questioni ai cascami che derivano dalle guerre c'è la questione del terrorismo e dell'immigrazione clandestina sulla quale il governo Gentiloni ha deciso di dare una sterzata rispetto a quanto deciso dal governo Renzi in precedenza e lo ha fatto il ministro dell'interno Minniti con un certo coraggio visto che è un tema che tradizionalmente è quello della maggiore durezza nei confronti dell'immigrazione appartiene più che altro al centrodestra La stretta del governo all'insegna della severità sta in questa circolare firmata dal capo della polizia Gabrielli indirizzata a prefetti questori ai comandi di carabinieri guardia di finanza e polizia penitenziaria nel documento le linee guida per incrementare controlli più capillari sul territorio e aumentare le espulsioni per gli immigrati irregolari favorire i provvedimenti di rimpatrio per chi non ha diritto a restare risultati finora inefficaci o spesso rimasti solo sulla carta una questione di ordine pubblico aveva detto a Milano il ministro Minniti sull'onda del caso Amri ma anche un fattore su cui si gioca la tenuta del tessuto democratico del paese perché i controlli alle frontiere non bastano appare necessario fornire alle forze di polizia indicazioni specifiche per rintracciare i cittadini dei paesi terzi in posizione irregolare scrive il capo del dipartimento di pubblica sicurezza e ancora il controllo e l'allontanamento degli stranieri irregolari consentirà di intercettare fenomeni di sfruttamento e inquinamento dell'economia collegati a forme di criminalità organizzata che attingono per la mano d'opera al circuito della clandestinità basti pensare al caporalato i numeri parlano chiaro raggiungere la quota di 10.000 espulsioni l'anno significa dover quasi raddoppiare nell'immediato i provvedimenti di rimpatrio 5.800 emanati nel 2016 dalle questure nei confronti dei cosiddetti irregolari cifra abbastanza in linea con la tendenza dell'ultimo triennio a fronte degli oltre 181.000 migranti complessivamente sbarcati nell'anno appena trascorso ma se l'intenzione è quella di aumentare i respingimenti con il massimo impulso tutto questo comporta una inversione di rotta nella gestione dei centri di identificazione e di espulsione al momento ce ne sono soltanto 4 Brindisi Caltanissetta Roma e Torino in grado però ciascuno di ospitare poche centinaia di stranieri dovrebbero essere potenziati e affiancati da altre strutture su base regionale ma questa politica per risultare davvero efficace comporta anche un reale sviluppo degli accordi di riammissione tra l'Italia e i paesi di provenienza alcuni già attivi con Tunisia Nigeria Egitto e Marocco altri da rinegoziare attraverso accordi bilaterali e che presentano come nel caso della Libia difficoltà ancora molto alte per una concreta realizzazione naturalmente appunto è un cambio di rotta significativo quello del governo Gentiloni in questo senso non poteva passare inosservato da quella parte che invece proprio nella lotta all'immigrazione con toni più duri ha fatto il cavallo di battaglia la Lega in primis naturalmente infatti tutto il centro di essa si è diciamo così ricompattato nella critica pur condividendola evidentemente nella sostanza nella critica alle nuove direttive del governo Gentiloni la stretta sui migranti annunciata con la circolare diffusa dal ministro dell'interno Marco Minniti e dal capo della polizia Franco Gabrielli diventa bersaglio di tutto il centrodestra Matteo Salvini via facebook è ironico cambia la posizione del governo sugli immigrati aumenteranno retate i controlli dei reimpatri riapriranno i CIE i centri di identificazione raddoppieranno le espulsioni ma come chiede il segretario del carroccio non era mica tutto sotto controllo non eravamo io e la Lega ad essere razzisti e a inventare paure intanto grazie al PD in tre anni ne sono sbarcati oltre 500 mila dai amici nel 2017 andiamo a governare e poi tutti a casa anche Giorgia Meloni è dura sfidando ogni senso del ridicolo il governo Gentiloni annuncia una svolta nelle politiche di accoglienza degli immigrati questa gente scrive la leader di Fratelli d'Italia su facebook crede che gli italiani siano tutti scemi l'unica svolta seria sarebbe quella di fermare l'invasione attraverso un blocco navale a largo delle coste libiche ma per farlo serve un altro governo critica sulla stretta annunciata dall'esecutivo e anche Forza Italia le misure per facilitare l'espulsione dei clandestini erano doverose già anni fa quando la minaccia dell'immigrazione selvaggia insieme a quella del terrorismo iniziava a minare l'Europa dice Lucio Malan l'unica certezza è che nella migliore delle ipotesi si tratterà di una piccolissima frazione delle centinaia che ogni giorno marina militare e organizzazioni non governative portano in Italia con il ben noto servizio taxi dalle coste libiche dunque si annuncia una nuova gestione più muscolare diciamo così dell'immigrazione peraltro condivisa anche a livello europeo la Germania in particolare dopo l'attacco di Berlino ha deciso anche lei di dare una stretta ai rimpatri cioè di verificare in maniera più precisa che i rimpatri siano davvero messi in atto così l'Austria che ha chiesto addirittura di togliere diciamo le sovvenzioni internazionali a quei paesi che si rifiutano di riaccogliere i migranti illegali nel loro paese da dove sono partiti quel che è certo senza fare semplificazioni banali tra immigrazione e terrorismo è chiaro che tutta questa situazione crea una maggiore attenzione mai si erano viste le città europee blindate come la fine di quest'anno ci prepariamo a festeggiare questo capodanno così con le principali città italiane presidiate dalle forze dell'ordine come non le avevamo mai viste all'insicurezza percepita che ad essere colpita dal terrorismo sia la nostra libertà i luoghi più frequentati dai giovani lo Stato risponde con un massiccio incremento della macchina della sicurezza a Roma tra un paio d'ore le iniziative sparse per la città non più un unico evento ma molti centri di interesse intorno a Lungotevere con gli artisti di strada e sotto gli occhi delle forze dell'ordine al circo massimo nei punti più sensibili ci saranno controlli col metal detector nei vari barchi d'accesso per rilevare eventuale presenza di armi tiratori scelti appostati sui tetti fiorieri antisfondamento per impedire l'accesso forzoso di camion e altri mezzi pesanti nella capitale sono più di mille gli agenti schierati tra polizia carabinieri e guardia di finanza anche il Colosseo sorvegliato speciale e intorno alla stazione termini previsti i mezzi blindati per le emissioni all'estero 160 i siti presidiati da agenti in divisa e in borghese tra piazze e monumenti fermate della metro Milano si sta preparando per il concertone in piazza Duomo che inizierà alle 9 la gente entra attraverso i sette varchi sotto il controllo del metal detector tra poco questa piazza si riempirà di almeno 50.000 persone con diversi corridoi di sicurezza che portano ai tendoni della protezione civile a fianco del palco c'è aria di festa ma anche qui oltre un migliaio di agenti delle forze dell'ordine tra polizia e carabinieri presidiano l'intera città mercatini monumenti e piazze presenti anche agenti in borghese con gli smartphone per riprendere situazioni sospette da trasmettere in diretta con un sistema d'alta tecnologia alla centrale operativa della questura presidiata anche la periferia milanese non molto lontana dal centro come stesso San Giovanni dove una settimana fa è stato ucciso l'attentatore di Berlino misure rafforzate anche a Torino e Napoli con barriere antisfondamento a proteggere le piazze dove si festeggia misure di sicurezza all'altezza anche a Firenze dove tra poco inizierà il concerto in piazza Michelangelo l'allerta resta massima in tutte le grandi città europee a Berlino da poco colpita dalla furia di Anisamri sono attese quasi due milioni di persone solo alla porta di Brandeburgo la cancelliera Angela Merkel ha rivolto un appello di ottimismo ai tedeschi ricordando come democrazia e stato di diritto saranno più forti del terrorismo infine anche Parigi è sotto l'occhio vigile della sicurezza con oltre 10.000 agenti schierati le minacce terroristiche arrivano essenzialmente anche se non solo dal sedicente capo dello stato islamico quel Abu Abadad scusate che nel luglio del 2014 il 5 luglio ha sfidato la comunità internazionale lanciando quell'invito alla Jihad per tutti i musulmani da allora la caccia al Baghdadi è stata serrata da parte delle truppe americane ma non solo naturalmente anche da parte delle truppe irachene si è detto più volte che era avvenuta la sua morte in particolare nella città di Mosul che è un po' la capitale del sedicente stato islamico oggi però è arrivato invece un avviso da parte del Pentagono che quella caccia deve proseguire ancora è vivo e stando alla cronaca continua ad ordinare ai suoi tagliagole di sferrare attacchi contro il mondo degli infedeli dagli odiati sciti musulmani ai crociati cristiani quasi l'intero pianeta a cui ha dichiarato guerra Abu Bakr al-Baghdadi ci informa il Pentagono è ancora libero da mesi intercettarlo è diventata impresa più ardua che in passato tiene un basso profilo spiegano dalla CIA gode di evidenti protezioni tra le comunità sunnite più radicalizzate tribù di Siria e di Iraq che ne garantiscono l'effettiva protezione solo con il tradimento di uno dei suoi fedelissimi è immaginabile al momento un suo arresto e gli ultimi ordini dati a partire da novembre sono sempre gli stessi colpire ovunque ed in qualunque modo gli infedeli gli apostati e difendere sino alla fine Mosul la capitale del Daesh in Iraq da cui chi può prova a fuggire ogni giorno sotto i colpi dell'esercito regolare iracheno che dal 17 ottobre ha lanciato un'offensiva che a dire il vero e a detta degli americani avrebbe dovuto essere ultimata già da tempo Mosul città simbolo del passato dello stato islamico sedicente da qui il 46enne al-Baghdadi dede infatti in via l'ascesa del suo gruppo di criminali e fu qui che autonomamente si nominò nuovo califo d'Oriente durante le operazioni di queste ultime ore le teste di cuoio irachene avrebbero poi eliminato un altro notabile del neocalifato si tratterebbe di Abu Ajar nome di battaglia per Salem Jamal Nasser Suleyman considerato l'amministratore di Mosul per conto di al-Baghdadi per la cronaca sulla testa del Raiz Sunnita pende una taglia da ben 25 milioni di dollari americani colpire ovunque dicevamo ancora meglio se l'obiettivo può essere scelto a Baghdad dove tagliagole possono ancora contare su appoggi importanti e così è stato stamattina all'alba quando due kamikaze in pochi minuti hanno fatto strage al mercato di Al-Sinac e davanti ad un ufficio postale dello stesso quartiere della capitale 58 i morti accertati insieme a quasi 60 feriti le esecue di alcune delle vittime di Al-Sinac si sono già svolte nel primo pomeriggio continuerà dunque la lotta e la caccia ad al-Baghdadi quel che è certo però che gli Stati Uniti così come annunciato più volte dallo stesso Trump in campagna elettorale porteranno a varti una sorta di disimpegno nella guerra in Medio Oriente sia in Iraq che in Siria resterà da vedere nei prossimi 12 mesi Trump si insederà il prossimo 20 gennaio alla Casa Bianca ufficialmente come si comporterà perché sicuramente si tratta del primo presidente che alle spalle non ha un partito strutturato e anche le persone di cui si è circondato non sono così come era stato per Obama politici forti su posizioni diverse un po' sullo stile di Lincoln diciamo che Donald Trump fa un po' a sé quindi bisognerà vedere che cosa succederà nei prossimi mesi quel che è certo però che Obama sta cercando in tutti i modi di ostacolare il suo insediamento con quel discorso di Kerry sul Medio Oriente ma anche con quella espulsione dei 35 diplomatici russi che ha creato e voleva creare una situazione sicuramente critica Obama che proprio oggi ha fatto il suo discorso di addio alla nazione essere il vostro presidente è stato il maggior privilegio della mia vita Barack Obama saluta così è il tradizionale messaggio radiofonico del sabato ma è anche il passo d'addio al 2016 politicamente terribile dopo 8 anni e due mandati contava su un happy end e invece nemmeno nel più brutto dei suoi sogni poteva immaginare di assistere da spettatore impotente a una seriale sfilsa di insuccessi politici ed elettorali dalla Brexit a Trump fino al referendum italiano Cameron, Clinton e Renzi alleati internazionali e compagni di partito in vano sponsorizzati e poi l'incubo Putin che avrebbe messo lo zampino nelle elezioni presidenziali americane e adesso aspetta solo che alla Casa Bianca si accomodi l'amico Donald Trump al presidente uscente adesso non resta che sperare paradossalmente nell'avversario repubblicano della sua prima inarrestabile corsa verso la Casa Bianca il senatore John McCain che da attuale capo della commissione del Senato per i servizi militari ha già fissato un'audizione per il 5 gennaio sugli attacchi in rete contro gli Stati Uniti saranno ascoltati il direttore del National Intelligence e il responsabile del Cyber Command a stelle strisce all'ex generale McCain e al suo compagno di partito lo speaker Paul Ryan non piace l'idea di mettere una pietra sopra le spintarelle russe a favore di Trump nel duello con la Clinton Donald Trump che ha fatto gli auguri di buon anno anche ai suoi molti nemici e a coloro che lo hanno combattuto ed hanno perso è pronto appena insediato ad annullare con un semplice decreto le sanzioni diplomatiche contro il Cremlino mentre gli hacker russi continuano a prendersi gioco della cyber sicurezza statunitense violando una rete di distribuzione elettrica dello stato del Vermont forse solo per il gusto di farlo il congresso potrebbe decidere invece di andare fino in fondo nell'inchiesta ciò segnerebbe una crepa nella solida sulla carta maggioranza repubblicana si vedrà per adesso il più contento della situazione statunitense non è a Washington e nemmeno a New York e a Mosca e si prepara una grande festa al Cremlino con i 35 diplomatici russi espulsi dagli States naturalmente appunto c'è grande attesa ve lo dicevo in apertura anche per il discorso del capo dello Stato di fine anno che affronterà vari temi delicati e cruciali sicuramente sarà un discorso importante perché vi dicevo che mai come quest'anno forse lo snodo politico passa dal Quirinale piuttosto che da Palazzo Chigi Palazzo Chigi che però ha come scopo principale del suo mandato sicuramente quello di risolvere la questione delle banche ma anche soprattutto di trovare un sistema elettorale condiviso con il quale andare anche se non si sa ancora quando alle elezioni In un clima politico confuso in un paese diviso sfiduciato affaticato come lo vede dal Quirinale sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tra poco a cercare di rassicurare gli italiani e sollecitare la politica a dare risposte un intervento breve poco più di un quarto d'ora dal bel vedere del Torrino il punto più alto del palazzo da dove arrivano queste immagini del backstage un breve bilancio di un 2016 faticoso e doloroso per l'Italia con l'incubo e le vittime del terrorismo ultima Fabrizia Di Lorenzo con le vittime del terremoto con le incertezze del lavoro e del futuro dei giovani che spaventano il tema dell'immigrazione la qualità della vita che peggiora problemi ma anche occasioni di solidarietà inutile una politica che non sappia rispondere dirà il capo dello Stato inutile una politica autoreferenziale piegata solo su se stessa e più preoccupata della legge elettorale che dei problemi del paese nel discorso solo un passaggio anche se molto chiaro e netto sul fallimento delle riforme costituzionali e sul nuovo governo senza alcuna data naturalmente per il ritorno alle urne che il Quirinale condiziona Mattarella lo ripeterà a una riforma delle regole del voto armonica per Camera e Senato obiettivo che sembra irraggiungibile è quello di una riforma condivisa spaccato al centro-destra con Berlusconi che ripete oggi la sua preferenza per il proporzionale il suo no al Mattarella indicato da Renzi e sostenuto da Salvini che a sua volta ribatte con un no da Mucchiate da Prima Repubblica e insiste per andare a votare il prima possibile obiettivo condiviso con l'ex premier segretario di un PD in pressing per le urne ma non con corte il pallino nella 2017 dopo la sentenza della consulta al 24 gennaio sarà nelle mani del capo dello Stato e voto anticipato o meno spetterà sempre a lui sciogliere anche il rebus del governo nella prossima legislatura in un sistema ormai tripolare e di forti contrapposizioni come diranno sempre tra poco nei controdiscorsi al Quirinale il leader dei 5 Stelle Beppe Grillo e anche quello del Carroccio Salvini Ma sul tavolo del governo Gentilione c'è anche l'altra grande questione il salvataggio di MPS Liquidità piano industriale cessione dei crediti in sofferenza e ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato sono questi i nodi che dovranno essere rapidamente sciolti per rimettere in sesto il monte dei Paschi se poi il nuovo anno portasse anche qualche risposta chiara alle domande su come perché e per responsabilità di chi si è arrivati a questo punto sarebbe una grande conquista il consiglio di amministrazione del monte dei Paschi ieri ha cominciato ad approntare la roadmap di inizio 2017 a partire dall'emergenza liquidità figlia della fuga dai depositi delle ultime settimane per farvi fronte dovrebbe esserci una doppia emissione di bond che beneficerà della garanzia statale possibile fino al giugno del 2017 grazie alla proroga concessa dall'Unione Europea di conseguenza i titoli emessi dal monte avranno un grado di rischio uguale a quello dello Stato garante contemporaneamente si dovrà mettere mano al piano industriale che andrà negoziato con Banca Centrale e Commissione Europea a quel punto si potrà capire cosa ne sarà delle sofferenze saltato il piano privato di sicuro il contributo del fondo Atlante sarà quanto meno inferiore al previsto e allora le soluzioni allo studio sono varie e tra queste vi sarebbe la creazione di una bad bank che in futuro potrebbe aprirsi anche ad altre banche alla quale cedere i crediti deteriorati in cambio di azioni da distribuire agli azionisti MPS solo allora si saprà anche il fabbisogno totale di capitale 8 miliardi e 8 secondo la Banca Centrale Europea il conto finale però sarà figlio dei negoziati e anche appunto della soluzione data alla questione sofferenze lo Stato metterà il necessario aprendo l'ombrello approntato dal decreto salva risparmio e iniettando in MPS una parte di quei 20 miliardi messi a disposizione del sistema bancario in difficoltà già perché una delle missioni principali del governo Gentiloni sarà proprio mettere in sicurezza quel sistema la cui fragilità oltre ad essere stata provata dalla vicenda senese è perfettamente esemplificata dall'anno sorribili svissuto in borsa dai titoli del settore che hanno perso circa il 40% del loro valore contribuendo in misura decisiva almeno 10% annuale di piazza affari Allora ci siamo quasi mancano pochi minuti al discorso del capo dello Stato Mattarella intanto vediamo insieme come si è festeggiata la fine di questo 2016 in diverse parti del mondo fino a questo momento naturalmente poi ci fermeremo per qualche istante pubblicitario ma restate collegati perché non appena comincia il discorso il presidente naturalmente lo manderemo in diretta 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 6, 5, 4, 3, 2, 1 Eccoci nuovo in diretta intanto approfitto subito in attesa che cominci il discorso del capo dello Stato a farvi gli auguri da parte di tutta la redazione e la direzione del Tg della Sette per una buona fine e un buon principio come si dice e vi dicevo siamo appunto in attesa di sentire il discorso di Sergio Mattarella del capo dello Stato che si collegherà tra pochissimo da una delle sale del Torrino che è una delle torri più alte del Quirinale per il suo discorso di fine anno che secondo le previsioni dovrebbe durare qualche minuto di meno rispetto a quello dello scorso anno oltre ad avere una location diversa lo ricorderete si collegò dal salottino del Quirinale l'anno scorso in quest'anno sarà particolarmente importante seguirlo perché proprio dal Quirinale passeranno le decisioni che saranno di rimenti e più importanti per l'anno che sta per cominciare quella decisione di andare alle urne per esempio secondo le indiscrezioni di quanto si è saputo fino a questo momento farà un invito all'unità parlerà un paese definito sfibrato da una sicuramente campagna elettorale che è stata molto dura che di fatto l'ultima mi riferisco naturalmente quella referendaria ha di fatto spaccato il paese ecco cominciamo a vedere possiamo forse vedere subito le immagini in diretta dal Quirinale l'Unione Italia che tradizionalmente anticipa quello che è il discorso di fine anno del Capo dello Stato vi dicevo un messaggio sociale che non trascurerà appunto aspetti della politica che pesano sulla vita di tutti i cittadini buonasera nell'attesa del nuovo anno